Qui con Gianmarco Bertetti, alla fine è arrivata la vittoria, vi siete sbloccati, meritata dopo tanta fatica, tanta amarezza. Adesso si è liberato qualcosa nella vostra testa? Siete più leggeri? Sì, sì, finalmente dopo tanto, tanto, tanto lavoro è arrivata. Ci siamo sbloccati, sì, secondo me c'era ancora quel passo un po' mentale di arrivare a fine partita e dire vabbè, intanto la perdiamo, invece no, siamo riusciti a vincere la partita più importante alla fine perché è la partita più importante e questo ci dà ancora più fiducia perché comunque, come ho detto prima, essendo 0-10 ma comunque siamo sempre stati uniti, sempre con la fiducia e adesso abbiamo superato un altro step e adesso cercheremo di vincere il più possibile e di arrivare tranquilli alla salvezza. Lo avevi già detto quest'estate, mi ricordo che quest'anno il gruppo c'era, era molto unito e direi che, come hai detto giustamente, lo si è visto veramente più in queste dieci sconfitte tanto che nella vittoria di domenica. Sì, sì, no, il gruppo è unitissimo, è la chiave di questo gruppo, si è visto nella partita di domenica perché noi non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati uniti, c'era, segnavo un canestro 1, c'era tutta la panchina in piedi, abbiamo esultato come se avessimo vinto una coppa e invece è un'esultanza di una squadra che si fa tanto, con tanto sacrificio, lavora durante la settimana e finalmente è arrivata alla vittoria importante e quindi è tutta felicità, tutto questo. Passiamo a Mantua, potenziale offensivo veramente notevole, però adesso siete in salute. Sì, sì, Mantua è una squadra simile a Dorzi Nuovi perché è una squadra costruita con tanto budget, con tanti giocatori esperti, tra cui Marco che ce l'abbiamo avuto noi l'anno scorso e è una squadra anche loro in difficoltà perché sono sette sconfitte di fila, però noi siamo molto in fiducia, siamo in casa e quindi dobbiamo cercare di giocare al nostro ritmo, di fare la nostra partita e di andare a casa per Natale con due punti in più. Perfetto, in bocca al lupo.